Niccolò ti posso fare solo una domanda, a quanto sei contento? Contentissimo Come ti stanno trattando e come ti senti al lavoro? Sento alla grande, sono carico, sto lavorando a bar e particieri a Momenti Dolcezza, a Teramo, a Via Cona Noi abbiamo anche i particieri, un particiere Roby, poi abbiamo due responsabili del bar Daniele e Marcello Quanto è bello sorridere alla gente e portargli un caffè? Se vengono un sacco di clienti, prendo un po' di caffè Ti sei affezionato ai clienti? Sì Che ti dicono loro? Mi dicono di prendere le mance, poi danno i soldi responsabili del bar, rispettano sempre i soldi del clientele Facciamo un appello, più mance? Più mance sono in totale 64 Quindi vuol dire che lavori bene, lavori, ma quanto è importante nel tuo lavoro essere gentile? Io sono buonissimo, bravo, gentile, questa settimana ho finito la scuola, mi sono appena diplomato quest'anno All'alberghiero, giusto? Sì E sono qua trasferito per il bar a lavorare come attendenza al suo lavoro E come un lavoro vero Quindi il progetto ha funzionato? Sì Vogliamo fare gli auguri di Natale a tutti? Sì Auguriamo tutti quanti un buon Natale, vai Buon Natale a tutti e arrivederci a tutti e buon Natale a tutti, grazie Grazie del caffè, Marcello, ma quanto è bravo Nicolò? Nicolò non è bravo, è super, è la nostra punta di diamante, paradossalmente perché è proprio bravo, bravo, bravo Qui con noi per la sua bravura soprattutto, la sua eleganza e la sua professionalità Che oggi come oggi non si vede proprio in giro neanche pagando a fiorfiore di quatrini Abbiamo letto sulle sue pagine social, anche di momenti di dolcezza, che lei cerca sempre personale Abbiamo fatto bingo con Nicolò? Abbiamo fatto un super bingo con Nicolò, ripeto, per la sua voglia di fare, per la sua voglia di imparare E per la voglia che ha di stare insieme agli altri, di condividere la passione che ha per questo lavoro Quando è stato importante il progetto con l'alberghiero di alternanza lavoro? È importantissimo, anzi io devo ringraziare la preside dell'istituto perché è sempre molto attenta alle dinamiche Quando mi ha chiamato per farmi partecipe di questo progetto sono stato ben contento di poter farle parte Insomma